Contatto visivo con un soldato nemico. We have lost objective, Edward. We have taken objective apples. Somebody call for an exterminator? We are losing objective apples. 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 You are losing a lot of the city. We are losing objective apples. Ehi, là c'è un soldato! Attenzione! Attenzione! Soldato nemico! Soldato nemico individuato! Vedo uno dei loro soldati! Ho visto un soldato! Visto uno dei loro soldati! Ma giù! Quello è un trucco! Ho individuato un soldato nemico! Siamo attenti! C'è un soldato! Un soldato nemico! Là! Un soldato nemico! 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 Chi é un soldato nemico? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.